Accordo di cooperazione tra autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale, porti di Trieste e Monfalcone e China Communication Construction Company. Ecco il momento clou stamane a Roma dell'accordo di cooperazione tra il porto di Trieste e il gruppo cinese China Communication Construction Company. Alla presenza dei capi di governo di Italia e Cina, il presidente dell'autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino e il leader del gruppo cinese Song Heilang hanno suggellato un accordo che sancisce di fatto l'ingresso del porto di Trieste nella cornice dell'iniziativa Belt and Road. L'intesa riguarda i porti di Trieste e Monfalcone e interessa le infrastrutture ferroviarie collocate nella regione portuale del mare adriatico orientale, in particolare le nuove stazioni di Servola e Aquilinia rientranti nel progetto TriHub, il piano integrato di rinforzo del sistema infrastrutturale ferroviario nell'area fra Cervignano, Villa Opicina e Trieste, sviluppato in collaborazione con il gestore della rete ferroviaria italiana RFI. Con questo accordo, ha dichiarato il presidente dell'autorità Zeno D'Agostino, puntiamo ad organizzare la logistica in uscita dal porto. Il nostro impegno è quello di supportare le esportazioni in Cina e nel Far East, nelle nostre piccole e medie imprese, che non hanno le dimensioni idonee ad affrontare questo tipo di investimenti. L'autorità di sistema, ha aggiunto D'Agostino, si mette a disposizione delle imprese italiane per sviluppare in Cina piattaforme logistiche e portuali che permettano al Made in Italy di raggiungere i flussi commerciali verso questo grande mercato in espansione. Quello con il nostro scalo è uno dei due accordi sui porti, l'altro riguarda Genova, firmati oggi a Villa Madama tra Italia e Cina.